Il Vice Presidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba, delegato alla consulta europea, è intervenuto all'inaugurazione di Europe from Outside. L'iniziativa propone un ciclo di seminari realizzati dal Dipartimento di Cultura, Politica e Società e del corso di laurea magistrale in Scienze Internazionali dell'Università di Torino con il contributo della consulta. La location si presta fantasticamente a questa serie di seminari che stiamo condividendo come consulta regionale europea insieme al Dipartimento di Cultura, Scienze e Politica. Il contesto è perfetto e il tema è anche un tema assolutamente attuale, quello di porre all'attenzione di chi sta al di fuori dell'Unione Europea e di comprendere come è vista l'Unione Europea al di fuori delle nostre mure di casa. In Russia l'Unione Europea è considerata finora una realtà con un potere normativo molto significativo e il suo gruppo per l'integrazione si occupa di diffondere i valori dell'Unione in altri paesi come la Russia. Ma è un peccato che stia perdendo il suo coinvolgimento nello scambio della ricchezza del prodotto interno lordo e questa tendenza sta continuando durante la crisi.